all'inizio dell'avventura ipo con l'amico bruno siamo pronti a spaccare a farci spaccare non lo sapeva ancora ma vedremo con gli artisti siamo carichi abbiamo fatto una bellissima scenetta grazie all'amico Bruno che mi ha consigliato buongiorno ragazzi il dream ipo si è concluso ieri sera a livello 12 dove dopo un torneo ho giocato molto bene non ho visto molte carte ma quelli che ho visto le avevo giocate bene sono sempre stato con un stack in average e il tavolo era fantastico il field penso che sia meraviglioso vedevo all in di 190 blind su board tutti rossi monotone chiamati da KK neri quindi robe veramente fantastiche in effetti la mia mano finale è stata un'apertura dal cg 3x un call il mio raise 5x un re-raise da uno blind non so bello gigantesco il mio call la mia face bet all in di 70 blind snaccata da KK neri si materializzava un fantastico asso al flop si apriva un flash draw a river e il magic river portava un grandissimo chiusura di flash draw con l'esultanza del mio avversario che era felice di aver chiamato la mia e il mio avversario